Innanzitutto vorrei chiarire una cosa, sulla vicenda del piano di sviluppo rurale secondo me si sta costruendo un racconto a livello politico, ovviamente strumentalizzando quelli che sono i dati, che non è fedele, non è reale rispetto allo stato delle verità e dell'arte dell'attività che stiamo svolgendo. Il piano di sviluppo rurale non è assolutamente fermo, noi abbiamo portato a termine i bandi più importanti che sono quelli per gli investimenti in azienda e abbiamo dato corso alla graduatoria del primo insediamento con la consapevolezza che questa è una misura molto attesa a livello regionale ma anche con la certezza che ad oggi per quanto siano pendenti dei ricorsi al TAR, il cui esito ovviamente per noi sarà fondamentale come guida per quello che accadrà dopo, però nonostante questo oggi noi siamo nelle condizioni di lavorare e stiamo andando avanti in maniera importante con tutta la tempistica prevista dal bando, paradossalmente siamo noi che stiamo attendendo gli agricoltori che oggi sono in graduatoria che ci forniscano i documenti richiesti dal bando stesso, hanno sei mesi di tempo dalla data di pubblicazione dell'atto e quindi è una sorta di inversione della logica della realtà. Dire che il PSR è fermo significa dire una cosa falsa, il PSR è in funzione, gli agricoltori stanno producendo la documentazione nel tempo previsto dal bando così come era normale che fosse. D'altro canto in questi mesi abbiamo insediato 450 aziende come primo insediamento e quindi già ci sono delle attività tangibili così come abbiamo portato in transizione cioè dalla vecchia programmazione con però delle attività svolte da questa amministrazione quasi 500 aziende per gli investimenti aziendali appunto, per gli investimenti da fare in campo. Quindi questa conferenza stampa nasce dall'esigenza di raccontare la verità delle cose e di farlo anche con dovizia di particolari e delle tecnicalità che ovviamente richiedono un tempo un po' più ampio ma questa cosa ci consente di rimettere al centro del ragionamento ciò che è vero, così come non è assolutamente un rischio che stiamo correndo quello del disimpegno dei fondi. Abbiamo già speso oltre 200 milioni di euro e con l'accordo che abbiamo fatto con AGEA che è il nostro organismo pagatore, organismo statale pagatore, siamo e saremo nelle condizioni di far avanzare questa spesa per quelli che sono i risultati che ci chiede la Commissione europea e anche molto di più. Paventare il disimpegno significa strumentalizzare delle inefficienze che tra l'altro sono di rango nazionale e non riferibili alla Puglia e significa non rendere un servigio agli agricoltori. Il dato reale con questo vorrei chiudere è che purtroppo su 3.000 domande della misura per gli investimenti 600 saranno finanziate, gli altri 2.400 devono prendere atto che purtroppo la Regione non ha le risorse per finanziare quelle attività. Non è un problema di PSR fermo, è un problema di risorse che non sono sufficienti a finanziare questa misura in maniera esaustiva. Stessa cosa per i giovani, su oltre 5.000 domande formulate, quindi richieste di insediamento, solo 1.000 sarà possibile per noi soddisfare. Questa cosa significa che a 4.000 aziende bisognerà dire che questa attività purtroppo, almeno allo stato dell'arte e con i finanziamenti che ci sono oggi, non sarà possibile da realizzarsi. Questo è dire la verità alle persone, strumentalizzare l'attesa di quelle aziende che sono in graduatoria raccontando loro che il PSR è fermo senza invece dire loro che non sono finanziabili, significa fare un'operazione di mistificazione, una strumentalizzazione politica e credo un'attività che danneggi un po' tutto il sistema agricolo della nostra regione. Quindi oggi credo che sia per me doveroso raccontare una verità, seppur non piacevole, l'unica possibile alla portata delle risorse che abbiamo, che sono risorse che ci dà la Commissione europea e che abbiamo ripartito assieme alle associazioni agricole, associazioni che ci accompagnano per il 90% della strada di quello che facciamo e che poi di solito all'ultimo momento hanno l'abitudine di fermarsi salvo indicare dei responsabili diversi, cioè le strutture pubbliche. Noi governiamo assieme a loro questo meccanismo, sarebbe utile assumere tutti quanti una corresponsabilizzazione del sistema agricolo pugliese.